Un cordiale saluto ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di video 33 in apertura. Momenti di panico domenica sera a Bolzano. Le nostre telecamere hanno ripreso l'incendio di un edificio a Viale Druso. Vediamo. Momenti di grande apprezzione per un incendio nell'interrato scoppiato nel cantiere dell'edificio di Viale Druso a Bolzano che un tempo ospitava la concessionaria Fiat. A dare l'allarme poco dopo le 21 di domenica è stato un passante che ha notato fuori uscire del fumo dalla rampa di accesso. Sul posto si è immediatamente recata una squadra dei vigili del fuoco della corpo permanente di Bolzano, poi assistita anche da una squadra di volontari di Gries. Siamo intervenuti in Viale Druso per un forte fumo che usciva dai sotterrani, dagli edifici dove sono siti e anche il libro fondiario e l'agenzia delle entrate. Il grosso problema è stato capire dove era l'incendio anche perché il cantiere è un cantiere decennale ed è di difficile accesso. A rendere particolarmente impegnativo l'intervento dei soccorritori il gran fumo che ha invaso tutti i locali dei tre piani interrati sottostanti al palazzone. I vigili del fuoco muniti di auto respiratore sono riusciti ad individuare il luogo da dove è partito l'incendio. A bruciare erano dei vecchi materassi usati da alcuni senza tetto che dormono nel cantiere ormai chiuso da lungo tempo. Proprio per questo vi era il sospetto che delle persone potessero essere rimaste imprigionate tra il fumo. Ma fortunatamente non è stato così. I pompieri sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso fin oltre la mezzanotte.